Nel Midway of Madness, il viale della follia, si cela la maschera del celestiale, l'incoronazione gloriosa della tua trasformazione. Con la maschera libererai il tuo destino, riporterai il regno alla sua purezza originaria e dimostrerai di essere un avatar degno degli Elder, ma stai attento, il tuo nuovo potere potrebbe essere messo alla prova dalle vuote mani dello spettro di Stargrave. Grazie a tutti. 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 Tutta.